Ormai è un classico, no? Parlare della magna questi o del sottoscritto con termini offensivi, discreditanti, eccetera, e poi fare figuracce terrificanti. Stavolta è il caso del blog La Scure di Elia, che in un articolo intitolato Bergoglio è Papa o no? Ma chi lo sa? Così si esprime sul sottoscritto. La tesi della sede impedita, sulla quale un giornalista fino allora è ignoto, sono vent'anni che scrivo per le pagine delle prime testate nazionali, siete voi che siete ignoti. Chi lo conosceva questo La Scure di Elia? Non si è mai sentito. Avrà, se no, venti o trenta lettori, quindi per favore un poco di rispetto. Improvvisato questo giornalista? Fino allora è ignoto, improvvisatosi, canonista, biblista, teologo e storico? No, io non mi sono improvvisato, io ho fatto riferimento a giuristi, biblisti, teologi e storici, come fa un giornalista d'inchiesta, eh? Questo giornalista, insomma, ha versato fiumi d'inchiostro e di sproloqui. Grazie. È una solenne sciocchezza, la sede impedita, che solo persone completamente a digiuno e di diritto canonico possono ingoiare. E certo, noi siamo stati a girarci i pollici per quattro anni, no? La sede impedita, spiega La Scure di Elia, infatti non è una condizione in cui un vescovo si ponga spontaneamente, bensì una situazione che subisce suo malgrado. Nel caso del Papa, essa si verificò, per esempio, quando Pio VI fu deportato dai francesi nel 1798 e anche Pio VII quando fu deportato da Napoleone primi dell'Ottocento. Qui invece abbiamo un successore di Pietro che nel pieno esercizio delle sue funzioni decide di abbandonare l'esercizio attivo del ministero, espressione del tutto inedita e giuridicamente equivoca. Allora, caro Scure di Elia, innanzitutto uno che non ha il coraggio di metterci il proprio nome dovrebbe imparare a moderare il linguaggio e soprattutto le sue affermazioni sono imperdonabili perché questa faccenda l'abbiamo riassunta in 5 minuti, in un documentario che ne dura 16, in 12 vignette, in 12 vignette per far capire esattamente questo, cioè che Papa Benedetto non si è posto da solo in sede impedita perché non avrebbe potuto imprigionarsi da solo. Lo ripetiamo ancora una volta, forse per la tremilionesima volta, è stata la convocazione del conclave illegittimo convocato a Papa non morto e non regolarmente abdicatario perché mancava la rinuncia al munospedrino a detronizzarlo e a porlo in sede impedita. Lui non ha abbandonato deliberatamente e volontariamente, ha dichiarato che vi avrebbe rinunciato. hanno deciso che mi pignorano la macchina, va bene, dichiaro di rinunciare a guidare la macchina, rinuncerò perché mi pignoreranno l'automobile, invece di andare a lavoro in macchina ci andrò a piedi. Questo è il senso della declarazione di Papa Benedetto. Com'è andata? E' andata così, è andata che lui l'11 febbraio dice dall'ora vigesima del 28 rinuncerò al ministerium, non avrebbe mai potuto farlo volontariamente, infatti l'ora vigesima ha una doppia interpretazione, un'interpretazione anfibologica, per cui si può trattare delle ore 20 del 28 febbraio oppure, secondo il quadrante romano, secondo l'antico quadrante posto sopra il balcone di Castel Gandolfo, orologio a sei ore, nel secondo dei due giorni in cui il tramonto comincia alle 18 a Castel Gandolfo, lui utilizza queste scamotage dell'ora vigesima per fare in modo che la rinuncia al ministerium avvenga esattamente nell'ora immediatamente successiva alla convocazione del conclave, che lui sapeva benissimo che il bollettino pontificio viene diffuso sempre fra le 12 e le 13, quindi, secondo il quadrante romano, l'intervallo fra le 13 e le 14 è la prima ora compiuta in cui lui è detronizzato e posto in sede impedita. Perché? Perché fra le 12 e le 13 veniva convocato il bollettino con cui si convocava il conclave abusivo, illegittimo, convocato a Papa non morto e non abdicatario al munus pedrino. Quindi, caro Oscure di Elia, cerchi almeno di documentarsi un minimo prima di fare queste affermazioni gratuite che le fanno fare una pessima figura. È chiaro che il Papa non si sarebbe mai potuto porre in sede impedita da solo. Lui ha annunciato che la prima ora in cui avrebbe perso il ministerium e quindi sarebbe stato posto in sede impedita era l'intervallo fra le 13 e le 14 di venerdì e primo marzo. Tra l'altro lui sceglie quest'ora vigesima non solo perché secondo l'ora romana corrispondeva alle 13 del primo marzo ma anche perché alle 20 del 28 febbraio secondo l'orario napoleonico tutti i baggiani, tutto il mondo avrebbe interpretato l'abituale chiusura del portone di Castel Gandolfo che si chiude sempre alle 20 come grande segnale di chiusura del suo pontificato. Infatti Benedetto XVI non ha mai firmato una rinuncia al ministerium non avrebbe mai potuto farlo proprio perché era in sede impedita tutto il mondo stava lì a guardare l'abituale chiusura del portone alle ore 20 di sera che sarebbe stata interpretata come la chiusura del suo pontificato. Tutto questo fa parte di un disegno teologico di lasciarmi andare a maturazione il grano con la zizzania, ticonio, la chiesa di Cristo cose che non pretendo che lei possa cogliere e non pretendo che possa interessarsi perché vedo questa cattiva volontà questa superbia, questa ostinazione ovunque in servizio permanente effettivo spero che lei non sia un sacerdote perché si vorrebbe in una situazione spirituale piuttosto difficile però prima di parlare in modo così offensivo della più imponente inchiesta sulle dimissioni di Papa Benedetto che sia mai stata condotta sul pianeta Terra cerchi almeno di documentarsi faccia delle obiezioni almeno pertinenti cari amici ci vediamo il 17 a Civitanova Marche il 18 a Udine il 24 e 25 a Roma all'Hotel St. John prenotatevi, mi raccomando grazie a tutti quelli che hanno voluto sostenere questo canale grazie a tutti